Ah, sì, sì! Strabiliò tutti per il modo di trattare la palla, per le sue finte, per i suoi scatti, per i suoi tiri folgoranti, per la sua intelligenza di gioco. A ritorno in Brasile ebbe gli onori del trionfo. Dall'Europa offrono centinaia di milioni per acquistarlo. Resta fedele alla sua terra, dov'è l'idolo degli sportivi. L'Europa gli piace, ma gli fanno fare certi capitomboli. L'Europa gli piace, ma gli piace, ma gli piace. L'Europa gli piace, ma gli piace. L'Europa gli piace, ma gli piace.